Benvenuti al nostro Tg Abruzzo, apertura dedicata a un grave fatto di c***o. Adesca una giovane sui social e poi la violenta in spiaggia. Un 45enne è indagato con l'accusa di violenza sessuale dei domiciliari con braccialetto elettronico per la vicenda che sarebbe avvenuta nel Terramano a metà marzo. Vediamo. Ancora un caso grave di presunta violenza sessuale in Abruzzo. Un uomo avrebbe adescato la sua giovane vittima sui social per poi violentarla in spiaggia. La polizia lo ha individuato e arrestato grazie alle tracce che ha lasciato sul web. Ora il 45enne, indagato con l'accusa di violenza sessuale, è ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La vicenda è avvenuta a metà marzo nel Terramano ma è stata resa pubblica solo in questi giorni dopo la svolta nelle indagini eseguite dalla squadra mobile con il coordinamento della procura di Teramo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo ha approcciato la diciottenne su Instagram. Comunicando nella chat è riuscito a fissare con lei un appuntamento sulla costa. Si è appartato con la ragazza sulla renire nel periodo di marzo, luogo pressoché isolato e lì l'ha costretta ad avere con lui un rapporto sessuale. Sotto shock per l'accaduto, la giovane si è recata prima in un pronto soccorso a chiedere assistenza, poi qualche giorno dopo è andata a denunciare l'uomo agli agenti della questura di Teramo. A quel punto sono partite le indagini complesse, con gli investigatori che avevano infatti pochi indizi a disposizione per individuare e incastrare il 45enne. Cruciali si sono rilevate le sofisticate analisi del traffico telematico generato dai diversi dispositivi tecnologici usati dall'indagato e l'elaborazione dei dati contenuti nello smartphone della diciottenne. Poi l'epilogo della vicenda ha pochi mesi dalla denuncia. L'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione e residenza è posto ai domiciliari. Il caso Teramano riporta al centro i potenziali pericoli dell'uso dei social per le giovani generazioni, ma sottolinea anche come i nuovi strumenti degli investigatori siano in grado di individuare con efficacia anche le tracce sul web. Ed è stata riaperta oggi la galleria San Silvestro di Francavilla al mare sulla statale 714 tangenziale di Pescara che era stata chiusa otto mesi fa dopo il crollo dello scorso 22 novembre a causa del cedimento di una parte del rivestimento laterale all'interno della galleria stessa. Ho combattuto per otto mesi dal giorno del crollo e della chiusura, ha detto la sindaca di Francavilla al mare Luisa Russo per rappresentare quali fossero i risultati enormi vissuti dal territorio. Finalmente siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Oggi è un giorno di festa. Rigopiano nel disastro, la procura dell'Aquila ha depositato il ricorso in Cassazione chiedendo di affrontare adeguatamente la parte relativa al reato di disastro colposo oppure ovvero quella della gestione della carta valanghe. I familiari delle vittime sperano ancora di avere giustizia e verità. Rossella Luciani. La procura generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila ha depositato il ricorso in Cassazione sulla sentenza relativa al disastro di Rigopiano. Il 17 gennaio 2017 una valanga travolse il resort provocando 29 morti. Dunque il terzo grado di giudizio ci sarà come chiesto dai familiari delle vittime nelle settimane scorse con tanto di sit-in. Secondo una prima lettura la procura chiede alla Cassazione di rivedere le parti della sentenza che hanno portato all'assoluzione degli imputati, specie per quello che riguarda le ipotesi della prevedibilità del rischio e della prevenzione della tragedia. La sentenza della Corte d'Appello si era puntualizzata soprattutto sulla gestione dell'emergenza post-valanga. Secondo la procura non sarebbe stata invece affrontata adeguatamente la parte relativa al reato di disastro colposo, ossia alla gestione della carta valanghe, le responsabilità della Regione Abruzzo o del datore di lavoro. Proprio quello che l'Associazione Vittime di Rigopiano chiede dopo la pronuncia della Corte d'Appello Aquilana dello scorso 14 febbraio, come spiega la mamma di Emanuele Bonifazzi, il giovane receptionist del resort abruzzese morto assieme a colleghi e clienti. Abbiamo partecipato al sit-in sotto il Tribunale dell'Aquila, sperando vivamente in questo ricorso perché non siamo affatto soddisfatti delle sentenze di prima e di secondo grado, siamo convinti che cancellino definitivamente il concetto di prevenzione. Quella che è mancata a Rigopiano perché in tutto l'Abruzzo, soprattutto nella zona montana in quei giorni, era in atto una forte allerta meteo emanata dalla Protezione Civile Nazionale e Regionale con codice arancione e allerta valanga 4 su 5 diramata dal Meteomont, quindi dal Corpo Nazionale alla Forestale. L'emergenza è stata gestita in modo pessimo perché evidentemente la Protezione Civile dell'Abruzzese non ha un protocollo di gestione emergenze ambientali da seguire e per di più non ha neanche volutamente richiesto aiuto a nessuno, nonostante le scosse di terremoto, la prima alle 10.25. Quindi dalla prima scossa di terremoto alla valanga sono trascorse più di 6 ore e non sono stati capaci di liberare le 40 persone imprigionate in hotel. Sarebbe bastato chiedere l'intervento degli elicotteri dell'aeronautica militare. Quindi per noi è inaccettabile il concetto di imprevedibilità e speriamo che dal terzo grado di giudizio emerga la piena verità, cioè la tragedia di Rigopiano si poteva e si doveva evitare. In appello c'era stata l'assoluzione per 22 persone e la condanna per 8, tra questi l'ex prefetto Provolo e il dirigente Bianco, il primo per omissione di atti d'ufficio e falsità radiologica, il secondo per falso. La sentenza aveva confermato invece le condanne di primo grado per il sindaco di Farindola Lacchetta, il dirigente della provincia Mauro Di Blasio, il tecnico Giuseppe Gatto, l'ex gestore del resort Bruno Di Tommaso e il tecnico comunale Enrico Colangeli. Case di riposo nel mirino della Guardia di Finanza, fondi del PNRR per la formazione mai effettuata dai dipendenti. Una truffa da 800 mila euro, due denunciati a Sulmona. Vediamo. 14 mila ore di formazione fantasma, ovvero esistente solo sulla carta, con tanto di registri didattici e delle presenze, ma sui banchi i dipendenti non sono mai andati, perché quelle elezioni non sono mai realmente esistite. Con l'accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita a compensazione di crediti inesistenti, due titolari di case di riposo circa 50 anni, che si trovano in Valle Peligna e Alto Sangro, sono stati denunciati dalla Procura della Repubblica di Sulmona. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2022 e il 2024. Le due aziende hanno dichiarato di aver speso ben 800 mila euro per la formazione del personale dipendente, al fine di ricevere l'incentivo comunitario finanziato dai fondi PNRR. I corsi tuttavia non sono mai stati effettuati né in presenza né da remoto. Inoltre, secondo le indagini della Guardia di Finanza, le imprese beneficiari e del credito hanno azzerato tutti i loro debiti, ricorrendo all'Istituto della Compensazione Orizzontale. Infine, una delle imprese non aveva requisiti giuridici per poter richiedere il beneficio, poiché versava in una situazione di difficoltà finanziaria per avere eroso il capitale sociale oltre i limiti consentiti dalla legge. Ed è finita purtroppo nel peggiore dei modi la scomparsa di Sebastian Di Toro, il giovane di Popoli, di cui si erano perse le tracce dallo scorso 10 luglio. Il ragazzo è stato ritrovato senza vita nella sua auto, un Alfa Romeo Giulietta Nera, dopo la segnalazione di un residente che ha visto l'auto in aperta campagna. L'ipotesi dei carabinieri che vicino alla macchina hanno trovato una pistola è quella del suicidio. A lanciare l'appello della scomparsa del ragazzo era stato il sindaco di Popoli, Dino Santoro, nel corso dei giorni scorsi. Siamo al caldo bollino rosso per quel che riguarda il fine settimana, ma in particolare venerdì e sabato, oggi e domani. Lo indica il monitoraggio del Ministero della Salute sulle ondate di calore in 27 città italiane. Pescara fa una doppietta. Oggi venerdì le 11 città con Bolino Rosso sono Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo, mentre sabato 13 luglio sono sempre le 11 città caratterizzate dal Bolino Rosso con Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e di nuovo Viterbo. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate, per lo più nei giorni consecutivi spesso associate a tassi elevati di umidità forte, raggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. E veniamo al orso marsicano, del quale rimangono pochi esemplari in Abruzzo, che è tornato a far visita a Civitella al Fedena. Il video dell'animale ripreso durante la notte è stato postato sulla pagina Facebook di una cittadina del centro montano in provincia dell'Aquila con tanti commenti. Vediamo. L'orso marsicano, specie nella quale rimangono solo una cinquantina di esemplari in Abruzzo, minacciati da incidenti, aprenamenti e bracconaggio, torna a far visita ad Al Fedena. Il video dell'animale di una specie protetta è stato postato sulla pagina Facebook di una cittadina del centro di montagna in provincia dell'Aquila, Ascenza d'Andrea. Tantissimi commenti tra pareri discordanti con molti cuoricini dedicati all'orso. Un esemplare apparentemente tranquillo e curioso è stato ripreso la scorsa notte in via Canapiena nel luogo dove ogni anno ad Al Fedena viene acceso il tradizionale fuoco di Sant'Antonio Abate il 17 gennaio. Stavolta l'orso, sarebbe il caso di dire, è arrivato con largo anticipo all'appuntamento e scherzi a parte lo si vede fare capolino davanti ad un uscio di casa e poi dopo un rapido sopralluogo proseguire la sua passeggiatina per gli stretti vicoli cittadini, mentre i cani, che ne avvertono l'odore e la presenza, abbagiano durante la notte. La ripresa è stata fatta poco dopo la mezzanotte con un cellulare con l'orso che ha evidentemente atteso il silenzio del suggestivo paese del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che già più volte ha assistito alle sortite di animali selvatici. Nel bar del paese, che vanta anche il Museo del Lupo, più volte animali selvatici come volpi, camosci, sono avvicinati a sorpresa anche di giorno. E per quanto riguarda i plantigradi, non è la prima volta del resto che l'Abruzzo è teatro di scorribande di orsi, da parte di esemplari anche nei centri urbani, in alcuni casi dei quali con esiti tristi come per la conosciutissima Orsa Amarena, uccisa con una fucilata da un residente nel 2023 a San Benedetto dei Marzi, sempre nell'Aquilano, la notte del 31 avosto 2023, madre di Juan Carrito, l'orso morto investito il 24 gennaio scorso, mentre vagava sempre di notte lungo la strada statale 17, vicino a Roccaraso. E siamo allo sport, calcio serie C, il Pescara che prova a somigliare al suo nuovo allenatore Silvio Baldini con l'arrivo di giocatori che Baldini ha avuto in passato, nelle sue esperienze con anche la Carrarese e poi arrivano i fedelissimi appunto Foresta e Bentivegna, ma in difesa parte di Pasquale, vediamo. Il Pescara perde un altro pezzo in difesa in vista del ritiro che parte domenica a destinazione Palena, Baldini, nuovo allenatore biancazzurro in attesa della presentazione ufficiale dovrà puntare su almeno un paio di giocatori per puntellare un reparto che adesso più di prima ha bisogno di rinforzi dopo gli addi di Milani e Mesic, tra i pezzi migliori del reparto passati a giocare nel massimo campionato olandese, la volta di Davide Di Pasquale, passato invece al Crotone che ha battuto la concorrenza di Campobasso e Gubbio per il 27enne, difensore ex biancazzurro che quest'anno ha dimostrato il suo valore pur nelle poche partite giocate e un contratto biennale con la formazione calabrese a Dio Di Pasquale, centrale difensivo che quest'anno sarebbe partito probabilmente titolare nello scacchiere di Baldini, conferma indirettamente il ruolo dell'esperto brosco tra i giocatori di maggiore personalità che al di là di qualche partita non andata nel migliore dei modi rimane uno dei pezzi da cui ripartire e Filippo Pellacani che ha superato l'ultimo infortunio al ginocchio, se sta bene, è un giocatore molto affidabile per la Serie C. In arrivo invece Andrea Accardi, jolly di difesa che Baldini ha avuto nelle file del Palermo e che il nuovo allenatore conosce bene e a proposito degli uomini che arriveranno con Baldini c'è Accurzio Bentivegna, alla sinistra che l'allenatore del Pescara ha avuto a Carrara e poi a centrocampo in arrivo Giovanni Foresta con Baldini a Carrara, anche lui capitano della Carrarese. A Crotone nei prossimi giorni potrebbe finire infine anche l'attaccante Edoardo Vergani che concluderà il suo periodo pescarese mentre al suo posto potrebbe arrivare Carlson dal Venezia. Teramo chiamato a iscriversi in Serie D, la società bianco-rossa però è ancora alle prese con il caso Stadio. Giussi Cingoli. Oggi pomeriggio alle 18 scade il termine per iscrizione al campionato di Serie D. Il presidente Filippo Di Antonio deciderà in giornata se accettare l'offerta arrivata ieri sera dalla Soleia con la proposta del gestore di ridurre il canone di affitto limitandolo solo alla parte sportiva e senza però che la società del Teramo possa utilizzare gli spazi pubblicitari con un canone di affitto di molto inferiore alle 200.000 euro di cui si sentiva parlare in giro oppure indicare per l'iscrizione al prossimo campionato il campo sportivo di Notaresco. A tal proposito il presidente Di Antonio ieri sera aveva in programma l'incontro con il primo cittadino di Notaresco per ottenere l'attestazione sulla disponibilità dell'impianto. Non dimentichiamo che un ruolo importante in questa fase è stato sempre del comune di Teramo nella figura del sindaco Gianguido D'Alberto che ha sempre rassicurato tutti che il Teramo avrebbe usufruito del Gaetano Bonolis a partire dal campionato che inizierà a settembre e non poteva essere diversamente. Attendiamo dunque notizie ufficiali. Intanto ieri la società biancorossa ha ufficializzato il portiere Alessio Di Giorgio classe 2006. L'estremo difensore già nella rappresentativa under 17 si è inizialmente formato nel savio calcio quindi il successivo passaggio all'ostiamare con cui ha completato l'iter giovanile fino al debutto in serie D. Una crescita costante che gli è valsa la scorsa estate il grande salto nella massima serie con la maglia della Salernitana con cui ha effettuato il ritiro precampionato e il ritorno indico la fosse impronese. Quando il mio agente mi ha parlato dell'ipotesi Teramo, afferma il neoportiere biancorosso, ho fatto fatica a crederci. Volevo avere un'opportunità per stare con i grandi che mi consentisse di migliorare ma non mi aspettavo in una piazza simile. Voglio giocarmi le mie carte con il giusto entusiasmo e mi auguro di fare bene sia per me che per la tifoseria. Sono ancora giovane ma questa deve essere per me, conclude il portiere biancorosso, la mia grande occasione. Sul mercato è vicinissima la conferma del centrocampista Francesco Esposito. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma sul contratto. Nelle ultime ore ci sono stati contatti con l'attaccante esterno Vincenzo Corvino, classe 91, ex Casarano con oltre 300 partite in serie D. E questa era l'ultima notizia per il nostro Tg. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con la programmazione di Vera TV. Arrivederci.